Buongiorno, buongiorno a voi, benvenuti, vi presento la felice protagonista del film, Martini Cervalier e il regista Filippo Meneghetti. Il film sarà distribuito da Teodora, come probabilmente sapete, non so se c'è già una data di distribuzione, ma poi magari non a te. Mi è sembrato che il cuore del film fosse una riflessione su quanto chiunque di noi venga condizionato nella vita quotidiana dalle opinioni degli altri, o quelle che noi pensiamo possono essere le opinioni degli altri, perché a volte siamo anche in errore e mi sembra che questo elemento, questa riflessione sia molto forte, quindi ci sia anche poi l'invito a liberarsi di queste paure e vivere la propria vita come meglio si crede, che sia una storia d'amore o che sia una scelta di lavoro. È effettivamente molto corretta la lettura, nel senso che effettivamente, da questo punto di vista, noi con Malissan Bovrasmi che ha scritto fin con me, volevamo veramente fare un film universale, nel senso che toccasse tutti, è una cosa che tocca a tutti, è questa qua, come quando cresciamo, come dire, ci insegnano quello che è giusto, lo sguardo degli altri ci forma, e soprattutto forma una cosa che è più pervicace, più complessa, quello sguardo degli altri, che è il nostro sguardo su noi stessi, però è fatto da come ci hanno insegnato a guardarsi, e la differenza è che lo sguardo degli altri a un certo punto potremmo anche chiudere la porta, e non esiste più, ma il nostro sguardo su noi stessi è un occhio che non si chiude mai, e in questo senso, quindi, liberarsi anche dal personaggio di Madeleine, che interpreta Martini, il problema è sì lo sguardo della famiglia, eccetera, ma è soprattutto interno, intimo, infatti è un film che parla delle cose che sono all'interno di noi, noi, diciamo, cercavo di trovare delle cose da filmare fisicamente, dei movimenti, anche dei movimenti fisici che possano essere movimenti interiori, movimenti dell'animo, che parlino di cosa c'è all'interno, senza necessariamente doverlo esplicitare, come mi stessi molto parlando. E a Martini vorrei chiedere le sue reazioni quando ha letto la sceneggiatura, che cosa ha pensato di questo personaggio, perché si è innamorata di questa storia, e che regista è stato figo? Allora, prima, io mi presento, per che le persone conoscenze un po' la situazione. Io sono d'abord un'attrice di teatro avant tutto. Ci sono 52 anni che faccio il teatro in Francia. Io sono a la Comunica Francia, che è un teatro illustre in Europa. E quando mi presento, io sono soprattutto nel teatro, io amo bene l'expressione, io amo bene l'experienza, e io sono una scuola molto exigeante, e quindi anche intellettuale. Per rinunciare a vostra questione, quando Filippo mi ha presentato il film, io ho trovato l'extraordine, l'extraordine, che a un po' di mese, il y a 5 anni, già? Oui, c'è sì. Quindi, il y a 5 anni, non c'era la coquetteria, ma io ero 65 anni, e quindi, io ho trovato l'extraordine, che l'on me propone un rile stesso, a un po' di mese, allora che in Francia, quando si è 65 anni, e che l'on fette del teatro, on è mort. E quindi, io ho trovato questo formidabile, io ho trovato questo assolutamente incroyable, e io mi sono detto, è un challenge straordinario per me. Buongiorno, innanzitutto vorrei presentarmi, perché sappiate chi sono, sono essenzialmente un'attrice di teatro, sono 52 anni che faccio teatro, sono nella Comédie Française, che è, come sapete, un'illustre teatro in Europa, e sono una persona che ama le nuove esperienze in teatro, e provengo da una scuola molto esigente, anche abbastanza intellettuale. E quindi, quando Filippo mi ha presentato il film, ho trovato che fosse straordinario, che la mia età, questo è accaduto 5 anni fa, io 5 anni fa, avevo 65 anni, e mi fosse data questa occasione, questo ruolo, perché in Francia, chi ha 65 anni, e fa soltunicamente teatro, può essere considerato come morto. Quindi, ho trovato una sfida assolutamente incredibile, questa proposta. Ecco, ma perché, appunto, sei andato a cercare un'attrice di teatro, con che tensione, diciamo? Perché, il ruolo era molto difficile, perché, insomma, bisogna avere anche tecnica, credo, per fare questo ruolo, e perché ci vuole coraggio, e pensavo che avrei trovato più facilmente un'attrice coraggiosa, e tecnica, e preparata a teatro, e conoscevo. Il lavoro di Martino? Esatto. Quindi, come dire, Martino ha fatto il regalo di darmi fiducia, e perché, come dice lei, è veramente difficile trovare la forza, credo, di rappresentare l'età con onestà, no? e con il libro, non parlo più l'italiano, è terribile, dando-si veramente al ruolo, mettendo-si in gioco, ecco, veramente nel ruolo. quindi questo era quello che ho trovato in Martino. è vero che ho trovato in l'italiano, è vero che ho trovato in l'italiano. in questa difficoltà il y avait di la bontà il y avait di la bontà dans le sentiment dans les hommes dell'humanità veritamente quando ho visto il script ho l'attendo prima di parlare perché aveva dei frissoni aveva dei frissoni partout non sapeva come dire le cose come le dire ce che ho sentito era veramente molto forte e ci si accrochiamo e ci si accrochiamo e in un momento ci si accrochiamo tutti i due a questa exigione e in un momento il dovrebbe fare il film a una certa periodo in le anni 17-17 e ci si trovo che malencontrauremente ho avuto un grave accident sono tornata da un etage e mi sono cassata la colonne vertebrale le jambe le piede le mani il ha fallo che me la construise e donc mi ha attendu un petit peu e je le remercie ça c'est la bonne così della tenace quindi leggendo la sceneggiatura le varie versioni che si sono succedute ho trovato una grande profondità verità anche allegria una grande bellezza nei sentimenti nell'umanità in questo testo e appena ho finito di leggerlo mi aveva talmente colpito che mi sentivo in preda a dei una sorta di tremori dovevo parlare con Filippo non sapevo come riuscire a dirgli tutto ciò che avevo sentito leggendo il suo testo e in realtà avevo dovuto fare il film girare il film già verso il 2016 il 2017 ma io ho avuto un grandissimo incidente sono caduta mi sono rotta la spina dorsale le gambe le mani i piedi quindi ho avuto bisogno di tutto un lungo periodo per potermi ricostruire e devo dire che tengo molto a ringraziare Filippo per avermi aspettato il suo testo è stato un testo molto bello che ha dimostrato anche tanta tenacia il film racconta però un problema molto specifico cioè quando non si è una coppia ufficialmente una coppia anzi a maggior ragione quando si è una coppia canadestina quando poi accade qualcosa come un incidente la malattia così la persona matta diciamo non può non può stare vicino e non solo per un problema di esogli familiari che si è comore ma non hai il diritto di stare vicino a una persona matta quindi questo mi sembra un'altra cosa giusta è realissima certo perché le cose che pensiamo lo sguardo degli altri poi alla fine esistono nella società non sappiamo vedere poi si realizzano diventano reali e quindi poi infatti il film racconta abbiamo parlato molto con Martino racconta un'impostura in qualche maniera un gioco fra di loro che poi che può sembrare divertente all'inizio loro giocano nelle prime scene del film si divertono con questa cosa con gli altri perché insomma poi le storie d'amore un po' di ostacolo mette anche un po' di pepe magari però poi quando questa cosa diventa vera anche ora nessuno ride più o loro due non ridono certo più e quindi è chiaro che poi il film è un film ostacoli infatti è una storia d'amore ma io tengo a dire per me è un trigger questo film perché l'idea di costruire un film che deve avere una tensione cosa fanno loro per ritrovarsi cosa arriveranno a fare quanti ostacoli si fanno sormonitare e chiaramente il tema il tema della setta dei diritti è la centrale ci sono delle domande sempre alla signora Martino devo chiedere come a un certo punto del film il suo ruolo cambia quindi deve recitare senza parlare deve recitare con gli sguardi silenzi ma quello che ha da dire è molto chiaro nonostante non parli e quindi ecco mi piacerebbe sapere come ha lavorato sul film sul suo personaggio da quel momento in poi è una persona a un certo punto e quindi c'è il lavoro io so che se non aveva l'exigenza di pensare tutto il tempo di lavorare tutto il tempo io passerei a scoperto di molte cose ma è un truc a me d'autres fanno altrimenti ma io penso che in l'exigenza del lavoro Xiao il cosa ciò che abbiamo fatto tutti, a dei gradi più o meno importanti, è l'observazione. Ho l'observato molto molto. Ho l'observato, ho l'observato le persone, c'è anche un mimettismo nella nostra arte. E ciò è importante di sapere, di lo prendere con la sua, e di lo redondare a traversa la verità. Ma se l'essere di tracere qualcosa, ciò si verrà. Il faut sempre lo vivere, ma cosa? Il faut lo vivere con la sua esperienza, il faut lo vivere con la sua, il faut lo vivere con la sua propria, come dire? Il faut vivere queste esperienze, e il faut dire anche che noi sono molto fragili, molto fragili, è un po' paranoiaque, il suffitato, il suffitato un po' di rendere soia, in face di soia, le cose che non va bene, ciò non va bene, ciò è molto stabilizzato. Io avevo la possibilità di seguire un cammino clare, anche se non torniamo in l'osso, perché avevo l'osso, che era un termomètre, suor, exigeant, e in un momento, non complaisante, ma... il ha un beau regard, il est très forte, il ha un beau regard, non, franchement, il est très juste e quindi non, 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 ma c'è la vita, è come questo, nel tutti i méti, tutto il suo lavoro, nel samare, ha detto che c'è il corpo, ma ma l'a, c'è l'obligatorio, non, ma l'a, 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 a chaque fois, io venissero sulle perché, io savavo, che c'è lui, che aveva ragione. E poi, di tutte le faccio, è il suo film e io ne sono che il vectore che è il suo film. C'è il suo film, non è il suo nome. Io l'accompagno nel film. C'è l'exigenza di questo lavoro di cinese. Au teatro, è il mio trucco. Io entro in scena, il mettero in scena, si mi ha detto qualcosa, va prendere. Il mettero in scena. C'est génial. Non, ma... Non, ma... Non, ma... C'est vrai. OTA, c'est la reine. Il te renseigne. Il ne peut pas t'interrompre pour dire, tu ne fais pas comme je veux là. Il te rende aussi. Et on est roi. C'est la liberté. Au cinéma, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui sait. C'est la camera, c'est la lumière, voilà. Et j'ai appris beaucoup. A mon âge, j'ai appris beaucoup. C'est bien ? Pardon. Ma la nostra arte è un arte molto difficile. Io, prima di studiare teatro, avevo studiato musica. E tutto questo fa sì che, non so che bisogna lavorare. Se non avessi mi costruita conto di questo fatto di lavorare sempre, continuamente, è assolutamente un'esigenza. Avrei finito con trascurare tante cose importanti. Io, invece, sono molto esigente rispetto al mio lavoro e trovo che un aspetto importante è lo sguardo, l'osservazione. Io ho passato molto tempo a osservare le persone, quasi a realizzare una specie di mimetismo, come è la nostra arte, ma l'importante è assumere questo mimetismo, diciamo, e poi restituirlo con la propria verità. Perché se non intervenisse la propria verità si tenebbe soltanto una copia e un significante. Si dice, fai vivere un personaggio. Sì, d'accordo, ma con che cosa? Si fa vivere con la propria esperienza, con tutto se stessi, con la propria carne. E bisogna riconoscere che gli attori sono degli esseri anche molto fragili. Basta che ci sia qualcosa che si scontrino contro qualcosa che non va bene e finiscono con l'essere estremamente destabilizzati. Però io ho potuto seguire questo cammino che mi è stato indicato, anche se poi non abbiamo lavorato o girato nell'ordine cronologico, perché c'era Filippo. Filippo per me è rappresentato un vero e proprio termometro durante tutta la lavorazione, perché era il suo sguardo quello che contava. Lui aveva un bello sguardo e io sentivo che quello che lui mi faceva fare era giusto e non mi rimaneva altro che accettare quello che mi chiedeva. Certo, a volte abbiamo anche discorso, abbiamo litigato, è tutto normale. Siamo degli esseri in carne ed ossa e la nostra arte è un'arte viva e quindi è inevitabile che questo avvenga. Però ogni volta tornavo nelle righe giuste perché mi dicevo Filippo ad avere ragione e poi soprattutto è il suo film. Io sono soltanto uno strumento, sono il vettore che accompagna questo film. Parlando di cinema è così, se dovessi parlare di teatro sarebbe una cosa completamente diversa. Perché il teatro è roba mia, sono io la regina quando sono in teatro, il regista non può neanche accennare di dirmi qualche cosa perché lo posso mandare praticamente a quel paese. Al cinema no, è lui il re, c'è la macchina presa, ci sono le luci e io devo dire che lavorando a questo film ho anche imparato molto. In una storia d'amore come quella che ti racconti, il fatto che siano due donne ad avere, cioè a vivere questo percorso, avrebbe tutto più complicato secondo te, cioè a me sembra che la donna abbia più un senso del dovere della responsabilità, senza di colpa nei confronti della famiglia rispetto all'uomo. Forse se fossero stati due uomini sarebbe stata più semplice. Io credo che le donne vivano un ruolo estremamente complesso perché gli si chiede di essere molte cose e ognuna di queste cose ha un peso importante per tutte le richieste. se la donna poi, nel caso del personaggio di Valvene, lei è madre, quindi la madre porta con sé tutta una serie di… voglio dire, a me stupisce anche una cosa che trovo che la mia generazione per esempio non necessariamente sia più progressista della precedente. e abbia delle idee che stupisco con dei coetanei a parlare di delle cose. Dico, ma come? Il progresso è un'illusione, o quantomeno non è una cosa scontata. e si parla molto dei diritti delle donne, però la donna in realtà oggi io penso che debba essere quattrantamila cose contemporaneamente. Deve lavorare, fare la madre, fare… subisce una pressione che io trovo… Cioè, io sono un uomo, però voglio dire, ho vicino a me tante donne e le amo molto e le ammiro molto perché io non lo saprei fare. Quindi anche da questo nasce per me… io volevo fare un film sulle donne perché mi affascinano nel senso più complesso. Quindi sì, senz'altro più complesso. Mi interesserà sapere anche, appunto, l'opinione di… Il suo personaggio è una madre e lei non ha il coraggio di lasciare una famiglia che non possa ormai da persone adulte e autonome. Quindi, appunto, mi chiedo sempre se per le donne è ancora più difficile vivere le storie d'amore. Io penso che c'è la società che rende le cose difficili. C'è la società, c'è ciò che si l'entoua, c'è l'enquire quella che intenzione, C'è il regard d'una chappe del plan di tantini anni di non libertà a causa della religione. ma cosa è in un'altra forma di religione, in un'altra cosa, ma cosa è in un'altra cosa. Non, io sono un'itore sexuola, non ho mai avuto l'expérience homosexuelle, non ho mai avuto l'experienza, non ho mai avuto l'experienza, non ho provocare non più, ma penso che l'amore non ha di frontiere, non, 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 non ho mai avuto la frontiere, c'è... Tant que les hommes mettront des barrières a l'amor, il y aura des guerres, il y aura de la guerre, c'est inévitable, ça part de là, et donc les préjugés, les candidatons, les vexations, voilà, les familles sont prises dans une nasse de préjugés, qu'est-ce que tu voulais... C'est... Je ne sais pas qu'est-ce que tu en parles. Non, non, c'est ça. C'est terrible de penser qu'aujourd'hui en France, pour parler que de la France, l'Italie je ne connais pas, mais pour parler en France, pour ne parler que de la France, c'est terrible de devoir cacher encore à sa famille son amour pour un homme, si tu es un homme, pour une femme si tu es une femme. C'est terrible de devoir dire je veux changer de sexe et de partir, parce que tu ne peux pas faire autrement, et de vivre ça ailleurs, parce qu'en France ça sera mal vu. Alors, ça commence un tout petit peu, il y a des petites avancées, mais on s'en voit, on est en 2019, presque 2020, on est bien, je sais bien qu'on est encore dans la queue de la comète du XXe siècle. On n'est pas encore au XXIe siècle, mais quand même, on devrait quand même avoir l'intelligence de se dire « Je vais mourir bientôt, peut-être demain, qu'est-ce qu'on va me faire chier avec l'amour que j'ai pour un tel ou une telle ? » Alors c'est vrai, le courage commence par ça, mais bon sens, je veux dire, ce sont des batailles, des batailles, mais au bout du compte, se battre pour l'amour, c'est magnifique. Romeo et Juliette se sont battus pour cet amour interdit, et encore ça recommence. J'espère que ce sera plus facile pour mes petites filles. J'espère, oui, plus facile pour vivre mieux sa vie sur terre, car elle est très courte. Mais c'est la société qui rende les choses difficiles, le fait de dire si, oh Dio, cosa penseront, se lo vengono a sapere. J'espère que ça a été l'unique de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique, et aujourd'hui, ça commence par contre-moutils diverses, mais la situation n'est pas changé. J'espère que ce n'est pas absolument nulle à cause de la personne de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique. Ce blir généralement, je ne vais pasập le suicide. Je ne vais jamais他 de l'unique de l'unique de Oliver tried à l'unique de l'unique de l'unique de l'unique de l'unique r'unique de l'unique ou l'unique de l'unique de l'unique, mais je terede pas l'unique avant l'eratoire. Eh bien quelques-unes saintenues les contrôles damnant, pas la lutte d'unique des guerres, avoir des mentally risquent des同 grecs des傷es, des malândies. le famiglie stesse si trovano coinvolte, frenate in una sorta di rete di pregiudizi ed è terribile pensare che al giorno d'oggi, parlo della Francia perché l'Italia non la conosco in Francia si debba nascondere in comunicazione della propria famiglia che se sia un uomo si ama un altro uomo o una donna che ama un'altra donna oppure se qualcuno desidera cambiare sesso sia costretto a andarlo a fare altrove perché le difficoltà di farlo nel proprio paese sono troppe è vero che qualche cosa sta iniziando a cambiare molto lentamente però non dimentichiamoci che siamo quasi nel 2020 è anche vero che siamo ancora la coda della cometa del XX secolo non siamo entrati ancora nel XXI secolo però bisogna avere l'intelligenza di dirsi ma io un giorno o l'altro morirò forse anche domani ma perché mai mi vengono a rompere le scate su chi io amo amo chi voglio amare e il coraggio inizia proprio da questo trovo che comunque sia lottare per l'amore è una cosa magnifica l'hanno fatto Romeo e Giulietta secoli fa e spero che per le mie nicotine sarà invece più facile dopo anni e potranno vivere meglio su questa terra sapendo che come tutti dobbiamo dirci in france noi dovremmo girare nel sud della france che si chiama la region... l'Occitane 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 non ma abbiamo girato in Mazzicolone ah beh ma prima tu volevi girare nel sud della france che si chiama la region PACA la region PACA che comprende tutto il sud della france le region si sono regruppi eccetera l'Occitane perché Filippo aveva visto che in questa region la region che sembrava molto all'Occitane e l'Occitane e l'ont riuscato e l'ont riuscato a causa del film a causa dell'histoire non niente quindi così è oblandioso non 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 c'è non però oggi il non non negri la politica pensate che Allora, il film, dice Martin, doveva essere girato nel sud della Francia, questa grande regione che adesso raggruppa diverse regioni che si chiama Paca, perché Filippo aveva visto che nella regione si trovavano dei luoghi molto simili all'Italia. E secondo Martin non si è potuto fare, forse anche per il tema del film, Filippo dice che i motivi probabilmente erano altri. Un po' anche altro. Allora, dobbiamo concludere qui, però se qualcuno di voi magari ha ancora qualcosa da chiedere, c'è quel signore lì. Io vorrei solo dire una piccola cosa, una piccola cosa che mi piace a cuore, c'è Laurent qui è uno dei produttori, Io vorrei ringerciare questa produzione che è eccezionale, eccezionale. Pier Emanuele, anche Pier Emanuele Florentin e Laurent Mojar. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo qui tra noi Laurent Mojar, uno dei produttori, e vengo a ringraziare lui e tutta la produzione, sono state persone eccezionali, oltre a lui anche Pier Emanuele Florentin, sono persone veramente ammilevoli, voglio che lo sappiate, sono stati estremamente creativi, entusiasti, appassionati, con tempo umidi, quindi volevo fare un ringraziamento ufficiale. Grazie. Grazie a voi. Grazie.